A cinque giorni dalla sua inaugurazione il social market di Salerno messo su da rete solidale sta dando i suoi frutti, al di là di ogni previsione purtroppo l'accesso del pubblico, un'organizzazione perfetta che si basa innanzitutto sul reddito, sulla compilazione dei modelli ISEE che potranno essere poi compilati anche grazie al CAF. A soli due giorni dall'inaugurazione c'è stato un boom di domande provenienti non solo da Salerno città ma dall'intera provincia, chi vuole accedere al social market l'abbiamo regolamentato in questo modo, si può accedere dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 per formulare la domanda, alla domanda deve essere allegata la documentazione ISEE, per agevolare gli utenti abbiamo messo a disposizione un CAF che verifica tutta la documentazione, verifica se ci sono i requisiti, a questa prima verifica contabile seguirà poi un'altra verifica presso il domicilio dove si ravvisi la necessità da parte di un assistente sociale in modo da poter, ove necessario, erogare altri servizi, integrarli, visto che la nostra esperienza è questa del terzo settore e quindi fare anche un riscontro rispetto alle domande che sono giunte. Una volta autorizzati, per garantire la privacy e anche per evitare lungaggini, verrà dato al cliente una card e un bigliettino con la data di appuntamento. In quella data, a quell'ora precisa, si potrà regare qui presso il social market e ritirare il pacco, il paniere della solidarietà. Abbiamo indicato un reddito certificato ISEE che non superi i 4.000 euro. La distribuzione avviene di pomeriggio, nel frattempo la mattina, ci atteniamo comunque agli orari del CAF che collabora con noi, quindi accettiamo le richieste dalle ore 9.30 alle ore 12.00. Quindi la mattina accettiamo le richieste e il pomeriggio prepariamo i pacchi per chi deve riceverli e contemporaneamente doniamo i pacchi che abbiamo già preparato per le persone che ne hanno bisogno.